Io voglio lanciarvi una provocazione. Oggi avere un ristorante, avere un locale, non soltanto è riduttivo, ma è anche pericoloso. È pericoloso avere un solo locale. Gli antichi dicevano che non si mettono tutte le uova in un paniere, e di fatto questo è un po' il senso di tutto. Non si mettono tutte le uova in un paniere. Se voi avete solo un ristorante, e un ristorante per definizione è geolocalizzato, perché di fatto è adibito in un'area geografica, se per qualche strana ragione quell'area geografica viene depressa per motivi che non dipendono da voi, voi ne risentite in maniera diretta. Ed è chiaro che se dal singolo ristorante dipendono tutti i vostri sogni di grandezza, avete un problema. Quindi avere un ristorante è pericoloso. Pericoloso. Vi racconto un aneddoto. Otto anni fa, quando qualcuno veniva da Ristoratore Top e chiedeva consulenza, sostanzialmente volevano aprire un ristorantino. Un ristorantino facile da gestire, lui in cucina, la moglie in sala, e si rilassavano così. Ci rilassiamo così. Una roba terrificante, no? Aprire un ristorantino per rilassarsi, non voglio farvi la metafora perché sarebbe troppo scurrile, ma ci siamo capiti. Con un ristorante non ci si rilassa. Chi lavora nella ristorazione lo sa, chi invece no, non lo sa, purtroppo, e finisce spesso e volentieri per schiantarsi e farsi è malissimo. Oggi invece tutte le richieste che ci pervengono sono di questo tenore. Il ristoratore top, Lorenzo, ho un format e voglio scalarlo. Attenzione all'uso delle parole perché è importantissimo in questa fase. Ho un format e voglio scalarlo. Voglio fare la catena. Quindi il primo anno ne apro uno e lo testo perché bisogna testarlo. Il secondo anno tre, il terzo dieci e il quarto vado a Londra che ho degli amici là. Poi lo vendo e vado a fare kitesource a Zanzibar. Io di fronte a queste obiezioni sono come il meme qui in sovraimpressione. Nel senso che quello che voglio arrivare a dirvi è che un format è una cosa complessissima da creare. Davvero vi deve tornare in mente la foto di Gianni Morandi di qualche giorno fa che diceva uno su mille ce la fa. In Italia i format fatti, finiti, pronti per essere veramente scalati sono pochissimi. Si contano sulle dita di una mano mozza. Ok? I format veramente finiti. È del motivo per cui non vediamo delle grandi catene italiane all'estero. È del motivo per cui non vediamo grandi catene italiane in Italia. Di format purtroppo oggi in Italia ce ne sono davvero pochi. Voglio darmi una brutta notizia. Non tutti possono fare la catena. Perché? Beh, perché è difficile. Perché è difficile ingegnerizzare un concept, renderlo un comprovato modello di successo, che comprovato modello di successo sono le parole alla base della legge sul franchising. E non è davvero la portata di tutti. Ma davvero. Perché non tutti i concept possono trasformarsi in format, lo vediamo tra poco. E perché non è detto che abbiate soldi, competenze e anche quel briciolo di fortuna che serve per fare la catena. Fare una catena è estremamente difficile. Forse è la cosa più difficile che esiste nel campo della ristorazione. La bella notizia però, non voglio darvi soltanto brutte notizie come ho fatto nella prima giornata, è che fare una catena non è l'unico piano di espansione. Anzi, dal mio punto di vista è quello più sterile di tutti i piani di espansione. Parlo da un punto di vista probabilistico. Fare una catena è estremamente difficile perché è statisticamente improbabile. Espandersi utilizzando altri piani di espansione, invece, non solo è molto più facile, ma è anche alla portata di chiunque. Perché? Perché non c'è nessuno che ci pensa, perché non c'è nessuno che lo fa. E quindi sostanzialmente avete di fronte a voi un campo parecchio libero. Quindi la bella notizia è questa. Potete diventare grandi, vi ricordate la definizione di diventare grandi, avere un'azienda ed essere antifragili. Potete diventare grandi senza fare la catena. E questa è la grande notizia di Food Expansion Mastery. Questi sono i sette piani di espansione che noi di Ristoratore Top consigliamo. Li vediamo uno per uno. Adesso se volete memorizzarli o scriverli per prendervi qualche appunto volentieri. Comunque, i sette piani di espansione sono questi. C'è il franchising, c'è il cash out o l'exit, c'è il tema delle aperture dirette, c'è quello che abbiamo chiamato local domination, il cherry picking, la destination e l'ibridazione. Questi sono i sette piani di espansione che noi di Ristoratore Top consigliamo. Quando qualcuno viene da noi, ci parla sempre solo dei primi tre. Voglio fare un franchising, voglio fare una exit, o voglio fare una catena aprendo direttamente. Questi tre piani sono i più difficili da realizzare perché statisticamente sono i più improbabili. Gli ultimi quattro non si rifila nessuno, ma sono i migliori. Franchising. Quanti di voi sanno o sapevano qual è la differenza tra un franchising e una catena? Provate a dirmelo. Chi me lo vuole dire? Così è un passante, senza il microfono. Sì, c'è stato sempre tutto della stessa persona, il franchising c'è di marchio a... Ad altri. Ok, sì, perfetto. È proprio così. Aperture dirette è un imprenditore che si mette in campo in prima persona e apre dei locali. Il franchising è un imprenditore che fa un accordo con altri imprenditori, c'è di marchio, know-how e tante altre cose che vedremo tra poco e apre dei locali. Ok? Questa è la differenza tra franchising e catena. Spesso e volentieri però sono due concetti che vengono confusi. Uno pensa al franchising e pensa alla catena e viceversa. Invece sono due concetti completamente scollegati. Ok? Il franchising è più un modello di business che un piano di espansione. Ma lo vediamo tra poco. Che cos'è il franchising? È il modo più conosciuto al mondo per fare una catena. Come funziona? Funziona che un franchisee si affiglia ad un franchisor il quale, questo franchisor, cede il know-how, cioè il sapere come si fanno determinate cose, il marchio, importantissimo, e quando si parlava all'inizio che avevamo per scontato di registrare il marchio e anche perché se volete fare un franchising vi serve un marchio registrato, e altri vantaggi all'affigliato, il quale, questo affiliato, apre un nuovo locale con il marchio del franchisor. Il franchising gode di una serie di vantaggi tra i quali il principale che è il numero uno e che è il più importante, sfruttare un modello di comprovato successo. Il contratto di franchising che viene normato dalla legge 129 del 2004, io vi consiglio di andare a guardare questa legge perché è brevissima e contiene anche tanti spunti per chi vuole fare ristorazione, per chi vuole fare imprese in questo mondo. Questa è la legge italiana che determina il franchising. È del 2004. Sapete quanto è cambiato il mondo dal 2004 ad oggi? Nel 2004 non c'erano gli smartphone. Ok? Il mondo era un altro nel 2004. Comunque, l'oggetto del contratto è, tra le altre cose, il know-how che viene definito come un patrimonio di conoscenze pratiche, questo leggo perché non voglio dire delle sciocchezze, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e prove eseguite dall'affigliante. Ok? Questo è il contratto di franchising. Io voglio sottolinearvi questa parte qua. Derivanti da esperienze e prove eseguite dall'affigliante. Ve lo sottolineo. Derivanti da esperienze e prove eseguite dall'affigliante. Tenetevelo lì. C'è il modo giusto e quello sbagliato per fare una catena con il franchising. Li vediamo tutti e due, ve li ho messi in maniera molto schematica. Di solito per fare un franchising ma anche per fare una catena in realtà si parte con un concept. Ok? Concept è la parola chiave. Che cos'è un concept? È l'idea embrionale della vostra attività. Se io domattina decido di aprire l'Osteria Lorenzana quello è un concept. Ok? È un modello, è un prototipo che non è testato, non so se sul mercato funzionerà, non so se avrà successo e non ho fatto con quel concept tutta questa serie di cose. Ok? Non ho delegato a nessuno perché ho appena aperto, non ho un management fatto come si deve, non ho dei reportanti, il piano di espansione sì però ce l'ho perché penso di essere arrivato. Quindi ci sono una serie di cose che non so quando ho un concept perché è un'idea embrionale sto ancora testandolo, sto ancora provandolo. Vi dico che fin tanto che siete in fase di start-up da zero a un milione voi state pur certi che non avete un format. È statisticamente molto probabile che non ce l'abbiate, mettiamola così. Così suona un po' un po' meglio e meno transient. Un concept una volta che l'ho testato lo ottimizzo, assumo, delego, assumo dei manager e tramite lo strumento delle aperture dirette, quindi replico questo concept con i miei soldi facendo il mio assumendomi i miei rischi apro appunto degli altri locali. E queste aperture dirette qual è il vero vantaggio di aprire direttamente? Che beh vi permettono di sbagliare, di ottimizzare, di rischiare. Ok? Una volta che ho effettuato una serie di aperture dirette e ho acquisito know-how, quindi so come fare le cose, ho una base manageriale che mi aiutano allo sviluppo, ho dei manuali che presuppone il fatto di avere delle procedure, ho delegato, ma soprattutto ho soldi, allora a quel punto ho un format. Il concept si trasforma in format nel momento in cui ci sono queste cose qua. Ok? E il format è un progetto ingegnerizzato e veramente scalabile. Veramente scalabile vuol dire che se io inietto 100 milioni di euro nella vostra attività e aprire un locale tra tutto, costa un milione, io in tre settimane ne ho fatti 100. Questo è qualcosa di scalabile. Vi faccio un esempio in un mercato che è totalmente avulso dal nostro, ma per farvi capire la potenzialità che ha un format vero e proprio. C'è una catena di caffetterie cinesi, che è stata una truffa clamorosa, che ha aperto in un anno 6.000 locali. In un anno. Sono 20 al giorno. Quello è un format. Ok? Poi in Cina vi dicono altre regole, ve l'ho preso apposta per fare l'esagerazione. Però quello è un format. Nel momento in cui in qualsiasi delle nostre attività, parlo anche per me, mi ci metto dentro anch'io con le mie, se ci iniettano 100 milioni di euro di liquidità non mi permettono di scalare, ma mi creano un problema quei 100 milioni. Perché è probabile che, non so come gestirli, è probabile che mi si ingolfi tutta la struttura perché è come se mettesse troppa benzina all'interno di un motore. Si ingolfa, non va più. È probabile che io non so che cosa fare di preciso perché non ho raccolto procedure, delega e non ho manuali. Non so di base come andare a investire questi soldi. Ok? Una volta che ho il format, posto che io ce l'abbia, questo format, a quel punto ha senso svilupparmi in franchising. Ok? Perché quando ho un format, io coinvolgo antiimprenditori, ho già rischiato, eh, il mio culo, perdonatemi francese, e ho messo il culo là fuori all'aria aperta e so che è andato tutto bene. Bene, in quel caso posso utilizzare il franchising per scalare, per andare veramente veloce. a quel punto posso fare il laboratorio. Ho messo qui il laboratorio a un modo di scherzo perché spesso e volentieri, come vi farò vedere nel modo sbagliato di fare la catena e il laboratorio arriva strategicamente in un'altra fase della crescita dell'attività quando invece non deve essere così. Questo qui è il modo giusto di fare il franchising. Sì, di fare il franchising. Vi faccio vedere quello sbagliato. Ho un concept che come sappiamo l'idea embrionale non è replicabile. Faccio franchising perché voglio rischiare non i miei soldi ma quello degli altri. Non voglio rischiare la mia reputazione ma quella degli altri. E non voglio rischiare di testare queste determinate cose sulla mia pelle ma sulla pelle degli altri. Mi apro un laboratorio perché fa figo dirò le cene perché se vado a cena con qualcuno e gli dico che ho un laboratorio siamo un industriale sembro la Marcegaglia e quindi mi sento molto figo. Poi lo chiudete perché il laboratorio non è profittevole perché di fatto questo è. A quel punto il format che metterete a punto non è un format perché non l'avete testato voi ma l'hanno testato degli affiliati che si sono fatti male nel prendere in mano il vostro concept e a quel punto vi buttate sull'apertura diretta perché non avete più fiducia da parte del mercato perché gli avete consegnato tra le mani un format che in realtà non funziona. Che non è un format è un concept. Tutto qua. Questa prima fase vi rende ricchi. è matematicamente provato. Questa roba qui vi mandi in galera. O nella peggiore dell'ipotesi finite sul giornale ma per le ragioni sbagliate. Vi voglio fare una domanda. Qual è secondo voi il modello più diffuso in Italia? Qual è il modello più diffuso? Allora facciamo un passettino indietro. Sette dopo pranzo il caffè non è pervenuto perché è fico ha deciso di no. Facciamo un respirone. dentro fuori ultimo tirone coraggio bene siete tornati tra il mondo dei vivi? siete tornati tra il mondo dei vivi? Sì grazie qual è il modello più diffuso? Quello sbagliato quello sbagliato il modello più diffuso è questo qua la gente apre vuole scaricare il rischio su degli investitori esterni butta il franchising nel mercato e spero che gli vada bene non va mai bene questa roba qui non funziona ma non esiste questa cosa qua qua 問題 è era questo è